È una situazione molto delicata per il nostro paese e anche per le forze politiche che oggi animano questa nuova maggioranza di governo. È altrettanto vero che però sono stati portati a casa dei risultati importanti che è stato quello di dar voce ai militanti nei territori. Passa la linea veneta del partito, la Lega mette sul piatto al Consiglio federale la richiesta di andare a congresso e in fin dei conti questa viene accolta. Entro la fine dell'anno si farà, così da dare finalmente ai territori una segreteria. Confermata però anche la leadership di Salvini, nonostante una buona parte della base ne avesse chiesto la testa dopo la debacle elettorale. Una scelta che il sindaco Trevigiano, che chiederà nuovamente la fiducia per un secondo mandato al prossimo anno, giustifica così. Siamo all'interno di una coalizione che ha vinto le elezioni, siamo in una fase delicata per il nostro paese che ha necessità di avere un governo stabile e siamo nella fase di composizione del governo, quindi io credo che sia giusta la conferma e la fiducia che è stata data e ribadita al segretario Salvini. E se sullo scacchiere gli alleati potrebbero, alla luce dei numeri delle urne, voler rivendicare più sindaci, nessuno pare mettere in discussione l'appoggio alla sua ricandidatura. Insomma, Treviso non si tocca, piuttosto la partita da giocare si sposta a Vicenza. Io credo che ogni partito sia libero di fare ogni ragionamento, però ognuno parte dai propri punti di forza. Io credo che la Lega abbia nei propri sindaci un punto di forza dal quale ripartire. Per quanto riguarda Treviso, io aprirò un tavolo dove illustrerò quello che è stato fatto e dove illustrerò la mia visione di città a tutti coloro che vorranno condividere un progetto di città, mettendo al centro le esigenze dei cittadini e dimenticandoci le spartizioni di sedie e di poteri. Le sezioni comunali torneranno a contare, assicura Conte, che ritocca con fiducia la percentuale che il suo partito ha portato a casa. Partiamo, per esempio, a Treviso da una base del 12% che va però completamente analizzata, perché non dobbiamo spaventarci per quei numeri e comunque a livello nazionale da una base del 9%, ma partiamo soprattutto da un esercito di sindaci che hanno mantenuto viva la credibilità nei territori.